Allora siamo al Tata, siamo alla fine di questa kermesse teatrale, molto bella, abbiamo parlato di Nidde Iotti, l'abbiamo ricordata, l'abbiamo forse valorizzata, siamo qui con la regista, allora una impressione su questa serata a Tarantina? Allora intanto bellissimo il teatro perché sappiamo tutti che il Crest ha fatto un ottimo lavoro a Taranto da anni e siamo in un teatro bellissimo in periferia ai Tamburi, quindi teatro sotto le ciminiere, è il caso di dire che da sotto le ciminiere si può iniziare a continuare a fare politica, a fare attivismo pubblico, a fare cultura e quindi il teatro ben venga, la prima cosa che mi viene da dire è che felicità. Che felicità, ma qual è il messaggio della regista per le donne? Il messaggio per le donne ma anche per gli uomini è di insieme unirsi e lottare per i diritti civili che non sono mai scontati, nel senso che noi viviamo in un'epoca contemporanea dove tutto è velocissimo e anche la comunicazione è velocissima e mancano degli spazi di riflessione sulle cose secondo me e questo quindi deve essere un obiettivo della generazione, forse della mia generazione ma anche quella precedente, di mantenere questi spazi di relazione, di mantenere gli spazi di riflessione che consentono un attivismo pubblico e una politica attiva vicino al cittadino che possa fare legge, cambiare i diritti, farli valere e non farli vacillare come invece succede spessissimo anche nel 2024 purtroppo. Quindi qual è il messaggio per la nostra città? Per la nostra città di continuare a guardare il futuro avanti, di lottare e di non dimenticare la storia perché la storia ci può insegnare a fare meglio e di essere uniti davvero, tanto uniti, penso che questo sia il messaggio che vorrei per tutto il mondo in generale. Una grande interpretazione, una grande scenografia molto semplice, il messaggio è arrivato a tutti e a tutte. Merito dell'attrice Silvia Lodi che è una straordinaria attrice, la mia Nilde è una bravissima attrice, questo è in dubbio, quindi il testo è interpretato benissimo, la scenografia è fatta da una carissima amica che è una scenografa cinematografica che si chiama Egle Calò e il testo è scritto da Valentina Diana, commissionato da me e rivisitato, anche io ho scritto delle cose, delle parti tipo quella sulla violenza carnale, delle parti meno costituzionali, diciamo così, quelle un po' più emotive, ma come sempre accade, perché poi il teatro è una collaborazione di più creativi, quindi ci si mette insieme, c'è il dragmaturgo, c'è lo scenografo, c'è anche una costumista bravissima che si chiama Lapilu e un live designer che è Davide Arsenio, insomma, siamo felici. Un buon esempio di teatro, quindi possiamo dire alla gente di venire più spesso a teatro. Venite al teatro, che il teatro è l'unico posto dove ancora ci si guarda negli occhi, non c'è uno schermo di fronte come in questo caso, ma in questo caso va bene. Venite al teatro perché il teatro è relazione, il teatro è bellezza, il teatro è sospensione del tempo reale, quindi questo è utilissimo.